Chi non odia pedalare nello smog? Chi non desidera fumare in ufficio? Chi non è in difficoltà con i pannolini? Chi non è a disagio nei mezzi pubblici? Chi non prova imbarazzo dopo aver mangiato fagioli? Insomma, per tutti, ma proprio tutti i problemi olfattivi e di areazione, abbiamo la soluzione definitiva! K di Elica, aria nuova per tutti! K è la tecnologia che cambierà per sempre la vostra vita. K può essere usata in tutte le situazioni, grazie ai pratici accessori dell'Air Kit, che la rendono un oggetto unico ed indispensabile. K di Elica, testata dagli ingegneri NASA, aspira, filtra e depura qualsiasi tipo di odore sgradevole. Applicando l'accessorio Smoke Kit a una comune sigaretta, il fumo magicamente scompare! In seguito al decreto ICO 2010 dell'ONU, per la qualità dell'aria negli ambienti chiusi con K, oggi potrete fumare nei luoghi pubblici. Fumare rispettando il prossimo è possibile, con K! Con l'accessorio Bike Kit K aspira le impurità della strada. Tutto lo smog verrà rapidamente eliminato. Scoprite il piacere di respirare con aria nuova. Posizionate K dove volete per purificare la vostra vita. A tutte le mamme, applicatela al pannolino del vostro piccolo. Sentirete la differenza! Vi siete mai chiesti quale aria malsana respirassero gli eroici astronauti delle missioni lunari della navicella Apollo 12? Per questo gli ingegneri della NASA hanno progettato K, permettendo al condottiero dello spazio Alexander Chabater, affetto da una grave sindrome di meteorismo, di viaggiare nelle galassie senza causare problemi ai suoi uomini. Se anche voi siete come Alexander, non dovrete più rimandare incontri romantici a causa dell'imbarazzo. Il vostro problema è risolto da K. Le nanotecnologie di K filtrano, aspirando ben 30.000 mm3 al minuto, senza emettere alcun rumore. Con l'accessorio Arm Kit K diventerà parte di te. Non solo sarete liberi dalla schiavitù del sudore, ma risparmierete anche in profumi e deodoranti. K, dalle forme sobrie ed eleganti concepite dai migliori designer, è il prodotto dell'anno. Dite addio a tutti gli odori sgradevoli, dite addio ad ogni tipo di disagio olfattivo. Con K di Elica non potrete fare a meno di darvi delle arie. Approfittatene subito. Per pochi mesi, K sarà venduto al prezzo speciale di 49,90 euro. Per saperne di più, visita il sito k.elica.com. Con K di Elica per te inizierà un'aria nuova.